Allora, finora noi abbiamo ragionato con le nostre funzioni di costo. Beh, già belle e pronte, ma da dove sono venute? Per magia! Allora, ora, in questa breve lezione vediamo come nella microeconomia si trovano le funzioni di costo. Allora, ora dei concetti molto semplici. La funzione di produzione. Ok? Questa è una super semplificazione che noi economisti facciamo. Praticamente è questa roba qui. Cosa c'è scritto? Q uguale a funzione L, K e vari fattori produttivi. In cucina cosa corrisponderebbe? Agli ingredienti. No, è l'elenco degli ingredienti, le dosi e la proporzione tra gli ingredienti. Ma chiaramente sapete che per cucinare un dolce, una pizza, qualcosa, gli ingredienti non bastano. Vero? Più ci vuole la descrizione del processo. L'organizzazione aziendale. Invece noi economisti non diamo la ricetta. Va bene? Mettiamo solo la lista degli ingredienti e come si devono combinare tra loro. Diciamo semplicemente che se noi combiniamo L, cosa vorrà dire? Lavoro. K, capitale. R, le risorse e altri fattori produttivi. Noi li possiamo combinare insieme in qualche maniera e otteniamo una certa quantità Q. Poi qual è l'idea? Quindi noi l'idea possiamo o usare molto il rastrello o il falciaerba, il crullino. Va bene? E quindi noi possiamo usare, ad esempio, tanto capitale o tanto lavoro. e possiamo produrre però la stessa quantità. Chiaramente in un caso lavoriamo tanto, in un altro caso usiamo di più l'elettricità e una macchina. Ok? Quindi l'idea è semplicemente che ho una relazione tecnica. x1, x2, x3 saranno i fattori produttivi. E quindi la quantità che io produco è determinata dalla combinazione di fattori produttivi. C'è scritto quantità massima. È chiaro perché se io ho un certo quantità di fattori produttivi posso sprecarne un po'. Quindi posso produrne anche meno. Quindi quando si interviene le funzioni di produzione, qual è la massima possibile se tu fai a modo il docce? Quindi q è la quantità di output, quello che esce fuori, e x sono le quantità di input. Siamo, primo punto, funzione di produzione. Questa è la rappresentazione, no, una relazione tecnica. F, N, K, L, etc. Secondo concetto, i rendimenti di scala. Adesso sono molto importanti, no, anche, soprattutto nella logistica. Ovvero, cosa c'è scritto? Mi potete variare la stessa proporzione degli input. Aumento equiproporzionale degli input. In cucina cosa succede normalmente? Se voi raddoppiate la quantità di lievito, di farina, di sale, di acqua, si raddoppia la quantità e il pane. C'è il problema un po' del forno, perché dovreste avere anche due forni, no. Perché se fate una grande quantità che sta in un forno, è con due piccoli. E quindi, vedete, equiproporzionale. Quelli si chiamano rendimenti costanti di scala. Raddoppiamo i fattori produttivi, raddoppia l'output. I rendimenti di scala sono decrescenti, se raddoppiando i fattori produttivi otteniamo meno del doppio del prodotto. I rendimenti di scala si dicono crescenti, se raddoppiando i fattori produttivi otteniamo più del doppio. Il caso del container è un classico, oppure delle navi. Perché noi, per costruire una nave che è più voluminosa, o un container più grande, e voi pensate alla quantità di ferro che dovete usare, la quantità di ferro per ottenere un container che ha un volume doppio, è meno del doppio. Perché lì noi stiamo nello spazio in 3D. Ci sono tanti fenomeni per i quali raddoppiare la dimensione porta a un aumento più che proporzionale dell'output. Questo è l'altro concetto che bisogna sapere. La scala è zoom in, zoom out. Quando cambia la scala, quando cambia la dimensione. Crescenti, costanti e decrescenti. Oh, ora qui, cruce edilizia degli studenti. Cosa ho scritto? Lambda. Funzione. Allora, io ho la funzione, immaginate che è una funzione del capitale del lavoro. Io prendo il capitale e lo moltiplico per lambda. Dove lambda lo prendo, no? Maggiore, ad esempio, maggiore di 1. Cosa devo dire? Per esempio, 2. Io ho F, poi a sinistra, a destra invece che cosa ho? Ho lambda, che è questo fattore moltiplicatore, e F di K ed L. Allora, io ho una certa quantità di capitale e una certa quantità di lavoro. Bene? Cosa ci dice questa diseguaglianza? Dice che ho rendimenti crescenti di scala se F di K ed L è il prodotto che ottengo con una certa quantità di capitale e una certa quantità di lavoro. Bene? Lambda K, F di lambda K ed lambda L è quanto ottengo se moltiplico ciascun fattore produttivo per un fattore lambda, ad esempio per 2. Quindi immaginate che lambda sia uguale a 2. Allora, quant'è F quando io impiego il doppio del capitale e il doppio del lavoro? Lo vedete qui? Riuscite a vedere al posto di lambda 2? Quindi quant'è il prodotto di 2K e di 2L? È maggiore di 2 volte il prodotto di K e di L? Ok? La vedete questa formula quindi? Ci siete? È chiara? Se è maggiore, se vale il maggiore, sono crescenti. Se è uguale, costanti, altrimenti è decrescenti. Guardiamo questa funzione. K che moltiplica 1 più radice di L. Come facciamo a vedere se sono costanti crescenti o decrescenti? Prendiamo al posto di K mettiamo lambda per K. Al posto di L mettiamo lambda per L. Quindi cosa scriviamo? Lambda K per 1 più radice di lambda per L. Non fate l'errore di moltiplicare, di mettere il lambda fuori dalla radice quadrata. Noi stiamo sostituendo, ci stiamo dicendo, se noi al posto di un chilo di farina ne usiamo due chili di farina. Bene? Questa roba qui è maggiore, minore o uguale di cosa? di K per 1 più radice di L moltiplicato per lambda. Va bene? Questo lambda volte di i dolci che facevo con la ricetta originale. Bene, e questo noi lo possiamo svolgere a questo punto perché possiamo radice di lambda per L è uguale alla radice di lambda per la radice di L e allora vedete quale sarà più grande considerato che lambda è maggiore di 1. Lambda K è uguale a lambda K. però la parte 1 è uguale a 1 e radice di lambda per radice di L è maggiore di radice di L perché ad esempio se fosse 9 radice di lambda sarebbe 3 ma anche se fosse 1,5. Allora poiché radice di lambda è maggiore di 1 possiamo mettere maggiore. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto che se moltiplichiamo per lambda i fattori produttivi otteniamo un aumento del prodotto più che proporzionale. Ok? Se raddoppiamo la farina, lo zucchero, le uova, tutto è anziché ottenere 3 torte ne otteniamo magari 7. bene. Concluso l'argomento rendimenti di scala. Questo poi è importante. Fattori di produzione fissi, input la cui quantità non può essere variata nel periodo di tempo considerato, fattori di produzione variabile, questo è connesso al costo fisso e al costo variabile. distinzione che a breve e lungo periodo l'abbiamo già vista, produttività media. Che cos'è la produttività media? È la quantità diviso x, la quantità di fattori che ho impiegato. E adesso appunto quanti chilometri faccio con un litro di benzina? Quanta terra aro con 10 litri di gasolio agricolo col trattore e quindi possiamo avere come abbiamo il costo marginale possiamo avere il prodotto marginale. E il prodotto marginale è la derivata del output rispetto al fattore. Attenzione quando si fa i dolci è un po' strano, no? Perché se voi fate i dolci e aumentate di 100 grammi la farina voi cosa succede? Niente, non è che aumentate il numero di torte. Quello si dice funzione di produzione a coefficienti fissi. Ok? Non è che oppure se voi avete 10 scarpe destra e 10 sinistra nello stesso numero e avete una scarpa sinistra in più il numero di scarpe che potete vendere è sempre lo stesso. Non è che è aumentato perché è aumentato la scarpa destra è aumentata la scarpa sinistra. Ok? Quindi questo è il prodotto marginale. Il prodotto marginale è la derivata parziale della quantità rispetto al fattore. Cosa succede se io lavoro un'ora in più? Cosa succede se io uso un po' più di elettricità? Una unità di elettricità in più? L'idea è che è la legge della produttività marginale decrescente che a un certo punto uno quando lavora si stanca e alla quindicesima ora di lavoro rende meno piuttosto che all'ottava. quale sarà mai la relazione tra produzione totale produttività media marginale la solita che abbiamo già visto. Se il prodotto totale fa così e il prodotto ok da questa noi possiamo ricavere e questo è il prodotto medio no scusate il prodotto marginale evidentemente questo è il prodotto medio vedete in questo caso nel punto di massimo sempre per esempio questo discorso della media ok abbiamo un grafico rovesciato rispetto a quello dei costi MPL è marginal product of labor il prodotto marginale del lavoro se io lavoro un'ora in più quanto produco in più e l'idea è che alla milionesima mail io risponda più lentamente piuttosto che sapete qual è la nostra occupazione principale occupazione principale dei vostri docenti rispondere alle mail ok quindi dopo un'ora che uno risponde alle mail la produttività di un'altra 10 minuti di mail si abbassa moltissimo inizia a mandare le mail senza legate queste cose oppure a invitare le persone senza dirle il giorno in cui devono venire a fare la conferenza qui i costi di produzione da cosa dipendono i costi di produzione dalla produttività dei fattori dal prezzo dei fattori no quanta benzina mi serve se io ho il trattore super efficiente mi serve poca benzina se invece c'è il trattore che non è tanto efficiente mi serve tanta benzina eccetera quindi cose ovvie quindi il costo totale dipenderà dall'output costo totale abbiamo detto TC tutte ripetizioni costo fisso costo variabile costo totale costo fisso e abbiamo ripetuto ad avanti veloce 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 costo fisso costo variabile medio costo fisso medio costo marginale tutti i costi marginali la relazione tra costo totale costo marginale e medio non vedete loro che ve la rispieglie per l'ottocentesima volta va bene la relazione tra grandezze medie e marginali la derivata che è ripetita Juvent bene quando i grandezzi marginali sono maggiori per le medie la media è crescente allora immaginiamo di avere una funzione ora ricaviamo la funzione del costo immaginiamo di avere due input variabili capitale e lavoro qui potete scrivere se volete se volete non è obbligatorio però finora era di passo allora Q0 fissiamo un certo livello di produzione vogliamo produrre 6 kg di pane per produrre 6 kg di pane serve un certo quantità di lavoro e un certo quantità di capitale ma io posso avere l'impastatrice o impastare a mano quindi 6 kg di pane vi posso produrre se volete potete scrivere ma non è obbligatorio posso produrre posso metterci tante ore a impastare la pasta oppure usare l'impastatrice e ottengo sempre 6 kg di pane ci siamo? qual è il concetto? che possiamo usare diverse combinazioni di fattori produttivi per produrre la stessa quantità questo si può rappresentare e sono gli isoquanti isoquanti significa la stessa quantità cosa sono le isobare nelle previsioni del tempo lungo le isobare c'è sempre la stessa pressione cosa sono le curve altimetriche lungo e l'altimetriche è dell'altezza se voi prendete una carta di montagna c'è la stessa altezza in tutti quei punti se voi prendete una mappa nautica cosa avete avete quelle linee blu che vi dicono la profondità del mare e se voi state su quella linea blu il mare è profondo sempre nella solita maniera se voi vedete tante linee bluetooth appiccicate una all'altra cosa vuol dire che c'è tanta pendenza e che quindi c'è un taglio il cosiddetto taglio dove si pesca bene vero? ci sarà qualcuno che va a pescare quel libro ecco va bene è giusto ok qui iso quanto guardate qua ora non scrivo k l cosa vuol dire questo? la solita quantità diverse combinazioni k e l anche questa è un po' una favoletta non è vero perché noi la stiamo rappresentando come linea continua ma molte volte ci saranno anche tantissimi i buchi non è detto che si possa sostituire a piacere cioè in quantità infinitesime no? se c'è un trattore non ha tanto senso parlare di radice di due trattori ok? è un trattore o due trattori un trattore più grande o un trattore più piccolo però comunque idealmente in prima approssimazione sono modelli ok? quindi idealmente possiamo scrivere gli isoquanti vedete? eccolo qua bene? le combinazioni di input ovvero di fattori che permettono di ottenere la stessa quantità di alti la mappa degli isoquanti ok? cosa vuol dire? più alti sono è maggiore la quantità perché? perché questo qua l'isoquanto di sopra consente di produrre di più dell'isoquanto di sotto perché normalmente si immagina che se io metto più tutto di tutto immagino che io riesco a produrre una quantità maggiore normalmente se io aumento tutti gli input se voi fate un confronto tra questo puntino qui non mi fate prendere e disegnare perché se no poi è lento prendete questo punto lo vedete? questo puntino qui poi andate qui cosa avete? avete più capitale più lavoro sto aumentando tutti i fattori produttivi questa funzione di produzione ne ha solo due e quindi è chiaro che Q1 sarà maggiore di Q2 quindi più siamo in su è maggiore la quantità che cos'è questa? che ho disegnato è la pendenza in un punto che cosa ci dice la pendenza in un punto? è la derivata no? come varia cosa? il K capitale se L varia di una unica è questa cosa che abbiamo scritto la prendiamo in valore assoluto che scrivo ora la variazione di K rispetto alla variazione di L questo l'ho messo in termini di derivati quindi se L varia di un epsilon piccolissimo di quanto aumenta cioè di quanto si riduce in questo caso K questo si chiama saggio marginale di sostituzione tecnica cioè ci dice che cosa se io lavoro un'ora di meno un minuto di meno di quanto di quanto devo aumentare l'utilizzo di chat GPT per produrre la stessa quantità sempre il solito discorso il significato della frazione ok? quindi io voglio andare un goccionino oppure se io lavoro un minuto in più e mi sposto sulla destra di quanto posso ridurre l'utilizzo della macchina saggio marginale di sostituzione tecnica se qui c'è K e qui c'è L ci dice quanto capitale quanto cambia il capitale se L cambia di un epsilon di una unità piccolissima se io invece avessi L qui e K qui invertiti ci direbbe di quanto deve cambiare il lavoro per affronte di un cambiamento unitario del capitale saggio marginale di sostituzione tecnica che sul vostro libro si chiama M MRTS marginal rate of technical substitution marginal rate of technical substitution MRTS perché c'è technical perché è una relazione tecnica non è una cosa a piacere a gusto di quanto deve aumentare la quantità utilizzata di un input nel caso di una riduzione in Italia della quantità utilizzata dell'altro input se si vuole mantenere costante il livello di produzione io voglio produrre 6 kg di pane se compro l'impastatrice di quanto si riduce le ore di lavoro per produrre 6 kg di pane bene ecco ora invece scrivete tutti perché facciamo il teorema delle funzioni implicite di Dini che ci dice appunto come possiamo ora ora ve lo dico come possiamo matematicamente cos'è questo saggio marginale di sostituzione perché intuitivamente da cosa deriva se io compro l'impastatrice di quanto devo ridurre il mio lavoro da cosa dipenderà dalla produttività dell'impastatrice e dalla produttività del mio lavoro se l'impastatrice è super efficiente super produttiva questo mi consentirà di ridurre il lavoro molto se invece il mio lavoro è super produttivo viceversa ok quindi il saggio marginale di sostituzione tecnica dipenderà dal rapporto tra le produttività ritorna intuitivamente allora quindi ora che cosa ho scritto cosa vuol dire K0 K0 vuol dire un particolare valore del capitale se io scrivo F di K vuol dire che K è uguale a 1 radice di 2 radice di 3 7 4 terzi invece K0 è un preciso valore L0 è un preciso valore e Q0 è la quantità di dolci di pane di grano che produco usando una quantità di capitale pari a K0 una quantità di lavoro pari a L0 ci siete allora scrivete la derivata di K rispetto a L e poi questa sbarra significa dato per un certo per produrre considerato che lo potete leggere in italiano qual è il valore della derivata di K rispetto a L per rimanere con Q uguale a 0 da qui è spagliato però aspettate un attimo ecco così torna di quanto devo cambiare guardate la lavagna di quanto devo cambiare il numeratore K se io voglio cambiare il denominatore L e mantenere la funzione di K L uguale a Q0 e continuare a produrre 6 kg di pane con le nuove quantità bene questa roba qui è uguale a la sapete leggere questa avete capito come si legge la derivata del capitale rispetto al lavoro considerato che F di K L deve continuare a dare Q 0 e sarà un valore diverso non è più K0 L0 per questo era sbagliato ce l'ho levato prima ce l'ha scritto K0 L0 no dato che la nuova combinazione deve continuare a dare K Q0 ci siete? no sono tutti ah giusto è sbagliato va cambiamolo anche lì non mi ricordo bravo grazie Q oppure cambiamolo qua Q cosa avevamo messo prima non mi ricordo se avevo messo maiuscolo o maiuscolo grazie ok allora questa roba qui è uguale a meno che cos'è questa la derivata parziale rispetto a L diviso la derivata parziale rispetto a K questo è almeno non c'è quindi che cosa abbiamo che cosa ci è scritto al numeratore il numeratore ci dice di quanto aumenta il mio prodotto F se il lavoro aumenta di una unità questo è il prodotto marginale del lavoro e sotto cosa c'è è il prodotto marginale del capitale di quanto aumenta il prodotto se il capitale aumenta di una unità infinitesima in questo caso perché c'è la derivata allora che cosa ci dice vedete perché è importante immaginate no che il prodotto marginale del capitale sia molto alto ok che con la nuova impastatrice sia potentissima riuscita a impastare e fare il pane tantissimo in maniera veloce cosa vorrebbe dire se il denominatore è molto grande quel numero lì diventa molto molto piccolo ok quindi che cosa ci dice che se io sostituisco una unità di lavoro mi dice quanta impastatrice in più devo utilizzare se io voglio ridurre di una unità il lavoro e siccome questa impastatrice è super potente è chiaro che basta pochissima di questa impastatrice possiamo fare al contrario possiamo pensare il contrario vedete che cosa vi dice se io riduco il lavoro di una unità di quanto devo aumentare il capitale questo è la variazione di k rispetto a n ok se l'impastatrice se il capitale è poco produttivo ok io chiaramente questo numero è relativamente grande quindi vorrà dire se questo numero è relativamente grande vorrà dire che se io riduco di una unità il lavoro devo mettere tanto capitale perché il capitale non è tanto produttivo ok e quindi allora immaginate che ci sia 4l più 2k uguale a 10 è un po' particolare questa funzione di produzione quant'è allora aspettate scusate perché si chiama funzione teorema delle funzioni implicite perché è difficile in alcuni casi è difficile vedete questa che cosa è la derivata di k rispetto a l qualcuno potrebbe dire vabbè ma ispiriamo k a funzione di l e siamo a posto e la calcoliamo anziché fare quella roba lì e infatti se noi avessimo 4l più 2k uguale a 10 cosa si farebbe k uguale 10 mezzi meno 4l mezzi si fa la derivata e siamo a posto e fa ora se noi facciamo ora usiamo invece la formula di Dini ma è che era quant'è la derivata di f rispetto a l 4 quant'è la derivata di f rispetto a k 2 meno 4 mezzi la derivata di k rispetto a l è 2 cioè se noi aumentiamo se noi vogliamo ridurre un'ola di lavoro dobbiamo sostituirla con 2 unità di capitale bene noi potremmo invece esplicitare se noi esplicitiamo otteniamo k è uguale a 5 meno 2l quant'è la derivata di k rispetto a l meno 2 quindi in questi casi facili si può anche esplicitare negli altri casi invece è più comodo usare il rapporto tra le produttività marginali allora qui in valore assoluto quindi se noi lo prendiamo in valore assoluto è uguale al rapporto tra le produttività marginali dei due input e questo è abbastanza normale ok quindi questo ci dice la pendenza dell'iso quanto cioè ci dice quanto vale questa pendenza qui sono andato troppo indietro ecco qui eccola qui va bene questa la pendenza della retta tangente di quanto posso di quanto devo ridurre k se voglio aumentare l di una unità oppure di quanto devo aumentare k se voglio lavorare un minuto in meno ci siamo perché ci serve tutta sta roba qua perché se no vi vanno a casa scontenti non dormite poi tutta la notte al pensiero perché vediamo un po ecco andiamo solo facciamo un po graficamente poi torniamo indietro allora proprio questo passaggio dobbiamo farlo quindi l'altro pezzettino del puzzle è il costo totale costo non la funzione di costo il costo la spesa se volete quando ho due input variabili w è il prezzo del lavoro che in macroeconomia abbiamo usato w perché wage salario vi ricordate vagamente r è come se fosse il tasso di interesse e k è il capitale bene se noi fissiamo un certo livello di costo io voglio spendere 100 euro se voglio spendere 100 euro posso ottenere in questa maniera la retta di isocosto la retta di isocosto scrivete tc uguale a 100 w un valore e r un valore e otteniamo una relazione tra l e k ovvero questa qui questa qui ci dice che cosa le combinazioni di capitale e di lavoro che dato un prezzo w un prezzo r mi danno lo stesso costo ci siete l'inclinazione data da w diviso r poi qui in questo punto cosa fate in questo punto usate soltanto lavoro va bene quindi se voi volete spendere 100 e il salario è 5 anzi il salario è 10 dovete usare quante ore di lavoro immaginate che voi vogliate spendere 120 fissiamo il salario minimo a 12 euro se voi volete spendere 120 quante ore di lavoro potete acquistare 120 diviso 12 10 quindi questo è tc0 120 diviso 12 questo punto è 10 e anche questo è il costo totale diviso il prezzo del capitale e il rapporto è dato da w diviso r voi dovete fare qui k uguale a tc meno vl diviso r allora voi potete fare la mappa degli isocosti cos'è la mappa degli isocosti uguale alla mappa degli isocosti solo che qui sono gli isocosti qui volete spendere 120 qui 150 qui 180 più andate lontano dall'origine più spendete e quindi cosa avete di nuovo se avete questo costo vl più rk il coefficiente angolare vr e quindi abbiamo le combinazioni dei due input che comportano come scritta la lavagna lo stesso livello di costo totale dell'impresa ora possiamo mettere insieme le due cose iso quanti e isocosti resistenti 10 minuti immaginate anzi come si ottiene la funzione di costo la funzione di costo si ottiene minimizzando il costo data una certa quantità noi cosa abbiamo messo nella nostra funzione di costo quanto è il costo per produrre 20 quanto è il costo per produrre 50 tc total cost bene allora questo non è quanto costa in generale ma qual è il minimo costo possibile quindi qual è il minimo costo possibile se noi vogliamo produrre una certa quantità quindi noi cosa dobbiamo fare dobbiamo disegnare un isocosti questa è la quantità che vogliamo produrre vogliamo produrre 800 paia di scarpe come possiamo produrre questo 800 paia di scarpe usando quantità variabili di capitale di lavoro e noi però vogliamo produrre queste scarpe al minimo costo possibile quindi questa è una minimizziamo il costo dato questo vincolo questo è il nostro vincolo 800 paia di scarpe ok allora facciamo delle prove immaginiamo di scegliere questa combinazione questo puntino di comprare sì un isoquanto scusate isoquanto allora immaginiamo che io assuma pochi operai e invece acquisti un botto di capitale va bene questo è quello che dice questo puntino tanto capitale e poco lavoro un impianto super automatizzato eccetera poi vado a a disegnare l'isocosto l'isocosto dipende dal prezzo relativo del lavoro del capitale e immaginate che l'isocosto sia questo domanda è possibile produrre la quantità 800 paia di scarpe corrispondente all'isoquanto verde a un costo più basso cambiando scegliendo un'altra combinazione produttiva allora intanto osserviamo che anche acquistando tantissimo lavoro e poco capitale in B possiamo produrre queste 800 paia di scarpe allo stesso costo perché sta sulla stessa curva di soccosto ora vi domando e qui qui produciamo lo stesso quantità di scarpe ma più o meno costo quanto con meno costo con meno costo perché è un isocosto più basso si si mi torna come se ci fosse un'altra eccola l'ho disegnata allora noi in questo caso ora si perché possiamo ulteriormente ridurre i costi se noi tracciamo una linea a un disocosto ancora più bassa si possiamo ridurre i costi però non riusciamo più a raggiungere l'iso quanto vero possiamo produrre meno allora qual è l'idea l'idea è che né A né B minimizzano i costi produrre con tanto capitale e poco lavoro oppure tanto lavoro e poco capitale non è una buona idea da un punto di vista dei costi in questo caso specifico i costi si minimizzano andando in C che è il punto di tangenza è il punto più basso non sempre il punto di tangenza però spesso il punto di tangenza quindi l'idea qual è l'idea è proprio che la condizione di minimo cioè di diciamo di ottimo vedete l'isocosto deve essere tangente quindi vuol dire che l'isocosto che è il rapporto tra il prezzo del lavoro e il prezzo del capitale W diviso L siamo andati un po' veloce prima ma lo potete poi riguardare deve essere uguale alla pendenza dell'isoquanto e la pendenza dell'isoquanto si chiama saggio marginale di sostituzione tecnica ed è dato dal rapporto tra le produttività allora quindi abbiamo scusate che la combinazione ottimale degli input è tale per cui il coefficiente angolare dell'isocosto deve essere uguale al saggio marginale di sostituzione e quindi noi questo lo vediamo bene qui questo lo ripeto che è uguale questo è il punto di ottimo in questo punto questo è il lavoro ottimale il capitale ottimale vale questa regola W diviso R è la pendenza dell'isocosto il coefficiente angolare dell'isocosto che ci dice quanto il lavoro è più o meno conveniente rispetto al capitale il prezzo del lavoro rispetto al prezzo del capitale questo deve essere uguale al saggio marginale di sostituzione tecnica che è dato dal rapporto tra il prodotto marginale del lavoro è il prodotto marginale del capitale ovvero questo il pareggiamento delle produttività marginali del capitale cosa ho fatto ho semplicemente diviso e risistemato i termini lo vedete che è la prima V diviso R uguale PMGL diviso PMGK e quindi risistemando i termini ottengo PMGK diviso R uguale PMGL diviso W capiamo cosa vuol dire questa cosa e andiamo via cosa vuol dire il prodotto marginale del lavoro diviso il costo del lavoro allora il costo del lavoro è immaginate un'ora un'ora facciamo il salario minimo 12 euro ci siete 12 euro se io lavoro un'ora in più di quanto aumenta il prodotto marginale del lavoro diciamo un numero a caso immaginiamo che aumenti di 24 bene quindi io con 12 euro ho in più 24 quindi con un euro ho in più 2 ok di là che cosa ho? ho lo stesso ragionamento applicato al capitale ci siamo? allora se uno fosse più grande dell'altro cosa vorrebbe dire che se io uso un euro io a un certo punto posso immaginare voglio produrre di più c'ho un euro lo metto a capitale lo metto per acquistare il capitale o lo uso per acquistare il lavoro se io io devo essere indifferente tra le due perché altrimenti se fosse più conveniente il lavoro io metterei questo euro per acquistare una unità di lavoro in più ok e questo processo andrebbe avanti fino a quando l'euro aggiuntivo di spesa darebbe la stessa resa lo stesso rendimento sia che io lo spenda per acquistare unità di capitale sia che lo spenda per acquistare una unità di lavoro ok quindi in pratica in questa maniera guardate torniamo esattamente alla rappresentazione grafica che abbiamo visto qui immaginate di essere nel punto A o nel punto B ok quindi qui vi conviene spostarvi dal punto A perché non c'è questa eguaglianza del prodotto marginale ponderato delle produttività ok quindi questo nel quando tutti i fattori di produzione sono variabili allora noi come si ottiene la funzione di costo semplicemente dicendo va bene 800 paio di scarpe 900 paio di scarpe 1000 paio di scarpe per tutte queste ipotesi ipotetiche quantità noi andiamo a vedere qual è il modo migliore per produrre queste scarpe quindi individuiamo quella che è la quantità ottimale di capitale di lavoro poi ci dice poi diciamo al salario corrente al prezzo del capitale corrente al prezzo di tutti i fattori corretti quanto spendo quello è il minimo costo per produrre 800 paio di scarpe per produrre 900 paio di scarpe per produrre 1000 paio di scarpe quindi noi l'idea è facciamo aumentare e abbassare l'isoquanto e andiamo a vedere qual è la combinazione ottimale ok quindi in questa maniera calcoliamo vediamo un po' se c'era un esercizio così era sufficiente per farvi vedere guardiamo rapidamente questo poi andiamo via immaginate che la tecnologia è rappresentabile K per L va bene lo vedete allora noi cosa dobbiamo avere che il saggio marginale di sostituzione tecnica deve essere uguale al rapporto tra i prezzi dei fattori ok poi forse forse sta qui va bene lo guardiamo meglio la prossima volta però l'importante è che voi abbiate capito l'idea ok e l'idea è questa cos'è la funzione di costo ci dice quanto dobbiamo spendere per produrre una certa quantità nel modo più economico possibile per trovare il modo più economico possibile dobbiamo trovare la quantità ottimale di fattori da impiegare ok quindi è chiaro che se e il pro e quindi dobbiamo trovare qual è la combinazione ad esempio tra capitale e lavoro che minimizza i miei costi di produzione e quindi per ogni livello produttivo astrettamente si fa questo calcolo e quindi in questa maniera possiamo trovare quella che è il minimo costo possibile per produrre una certa quantità e questa quantità questa è la combinazione dei fattori produttivi è determinata non solo dal prezzo dei fattori ma anche da quanto ciascuno dei fattori rende perché magari il capitale potrebbe essere molto più caro del lavoro ma anche molto più produttivo del lavoro ci siamo quindi bisogna bilanciare questi fattori